Il Bari perde in trasferta dopo tre mesi e mezzo cadendo per 1-0 al Castellani di Empoli, decisivo un gol di Maccarone al 29esimo del primo tempo. I Toscani hanno legittimato la vittoria con un palo di Davano e uno di Dumitrum, ma il Bari ha sbagliato un rigore con Bogliassino al 19esimo della ripresa. Il Bari ha rimediato una sconfitta esterna che mancava dal 26 novembre quando i Biancorossi furono sconfitti. Per tre a uno ad Ascoli, da allora quattro vittorie e due pareggi. Insomma, il Bari ha perso la possibilità di balzare in testa la classifica dei match in trasferta.